Musica Bene ritrovati, ben ritrovati al Festival del Futuro Siamo ancora a parlare di 5G Ne abbiamo parlato prima con Sabrina Baggioni 5G Director di Vodafone E vogliamo approfondire questo tema Perché abbiamo capito dalla precedente intervista con Sabrina Baggioni Di come può essere pervasiva questa tecnologia nella nostra vita in futuro Ne parliamo con due ospiti che abbiamo in collegamento E che saluto Filippo Miola Vice Presidente di Confindustria Vicenza Che saluto Buongiorno Filippo E' delegato per Confindustria Vicenza Anche per l'innovazione fabbrica 4.0 Ed è Presidente CEO di Arrai System Do il benvenuto a Filippo Miola Che poi condurrà un po' insieme a me questo panel La seconda persona che saluto è un nome storico dell'internet italiana Stefano Quintarelli che dovrebbe essere collegato con noi Buongiorno Stefano Quintarelli Grazie per essere con noi Stefano Quintarelli è appunto internet in Italia si può dire Dal 1985 è uno dei fondatori di Inet Che è stato il primo internet service provider italiano Quindi conosce molto bene tutta la prima parte Diciamo Della storia e ovviamente conosce bene la prossima parte della storia Che è quella legata a questa straordinaria tecnologia Che abbiamo imparato potrà avere un grande impatto sulla nostra vita Quintarelli è stato anche deputato nel 2018 È stato Presidente del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale Del Consiglio dei Ministri Quindi do il benvenuto a entrambi E vi lascio la parola per approfondire questo secondo focus che abbiamo sulla tecnologia 5G Lascio la parola a Filippo Miola Grazie Allora diciamo che noi oggi vorremmo Dopo tutta la pioggia di ordinanze e di eventi che sono stati fatti Per capire se il 5G fa male o non fa male E diciamo una serie di approfondimenti che sono stati fatti E che ritengo superati Perché è chiaro che non cambia nulla rispetto a prima Quindi oggi noi vorremmo raccontare una storia diversa Raccontare quali potrebbero essere le possibili applicazioni Che le aziende potrebbero intercettare Come le aziende potrebbero immaginare processi e prodotti Con questa nuova tecnologia E su questo lancerai un video introduttivo Come le aziende potrebbero immaginare processi e prodotti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E noi appunto su questo, nella prossima slide c'è il nostro logo, abbiamo creato un progetto in Confindustria a Vicenza proprio per raccontare questo nuovo viaggio verso la trasformazione digitale. E' appunto il progetto Giselle 4 Factory che è stato creato in Confindustria per accompagnare le aziende in questo viaggio. Io non vedo le slide, non so se sia... ok. Andrei alla prossima dove praticamente riassumiamo il percorso delle varie rivoluzioni industriali e diciamo che la quarta rivoluzione industriale fondamentalmente ha aggiunto alla parte di automazione e di elettronica tutto quel mondo che arriva dalle tecnologie digitali e dal software fondamentalmente. Nella prossima slide vediamo i vantaggi che questa trasformazione digitale può portare nelle aziende, nei processi e nei prodotti. Quindi l'aumento della velocità, della flessibilità, l'aumento della qualità e soprattutto quello che poi è anche un grosso problema che abbiamo e che dobbiamo superare nelle aziende è il tema della produttività. Quindi aumentare la produttività e lo possiamo fare aumentando l'efficienza di processi e prodotti. Io aggiungerei anche un altro aspetto che è la sostenibilità. Abbiamo potuto apprezzare e constatare che con la trasformazione digitale l'azienda diventa anche più sostenibile. Quindi sono tutti fattori che portano a quella trasformazione che porterà appunto l'azienda verso il futuro. Quindi un grande impiego di tecnologie digitali, di software ma soprattutto un grande scambio di dati tra le macchine e tra tutti i momenti di costruzione di un processo industriale. Ecco, questo è un tema importantissimo da tenere presente perché veramente l'utilizzo esponenziale dei dati all'interno delle aziende dovrà essere un argomento dove porre l'attenzione perché farà veramente la differenza in futuro. La prossima slide ci fa vedere come un'azienda è sempre più interconnessa. Quindi è tutto collegato dal fornitore fino al cliente, diciamo che è tutto collegato in un unico grande insieme di anelli che appunto vanno a costruire quella supply chain che diventa sempre più determinante per il successo delle aziende. Noi in futuro, come diceva prima anche la rappresentante di Vodafone, avremo la possibilità di governare prodotti che non stanno più dentro le nostre aziende. Ma per far questo noi dovremo avere un sistema che sia completamente collegato tra esso. Passiamo alla prossima slide e vediamo quali sono alla fine i pilastri di questa, diciamo, industria 4.0. Quindi l'automazione, un utilizzo dei dati in maniera estrema, quindi i big data, il cloud, un altro, diciamo, argomento importante perché con i dati messi sul cloud io potrò andarli ad interrogare e le avrò sempre fruibili in ogni momento, l'automazione che diventa sempre più estrema, la gestione dei dati, quindi il data management, ma soprattutto, ed è quello l'argomento che oggi andremo ad approfondire, è il tema dell'internet e delle cose. Quindi l'IoT. La prossima slide approfondisce quali sono poi i vantaggi che porterà l'IoT. Quindi cosa potremo collegare, cosa... La prossima slide, grazie. Praticamente l'internet delle cose mi permetterà di collegare qualsiasi device, qualsiasi persona, in qualsiasi momento, qualsiasi business, qualsiasi network e soprattutto H24. Quindi potrò gestire tutto quello che è collegato al sistema in ogni momento, da qualsiasi parte, in maniera continua. Quindi avrò un cruscotto, potrò disegnare un cruscotto che mi darà, diciamo, come sta andando la mia azienda in tempo reale, e potrò governarla e interagire con essa in maniera puntuale. La prossima slide ci va praticamente a portare al tema della giornata, perché tra tutte queste tecnologie, una delle tecnologie appunto di comunicazione è appunto il 5G. Il 5G è una nuova tecnologia di comunicazione che, come è stato detto, ha al suo interno delle caratteristiche di prestazioni, di efficienza, che faranno la differenza. Ci potranno veramente far fare la differenza. E quindi direi che la parola d'ordine la troviamo nella prossima slide, che è appunto l'interconnessione. Oggi viviamo in un mondo che è sempre più interconnesso, non solo all'interno delle aziende, ma nella vita di tutti i giorni. Credo sia, diciamo, tangibile. E oggi con questa pandemia che abbiamo, diciamo, in qualche maniera subito, ci siamo accorti della potenza dell'interconnessione, della potenza e nello stesso tempo anche della fragilità, in certi casi, della rete che abbiamo nel nostro paese. Però ne abbiamo capito fondamentalmente l'importanza e quello che ci può aiutare a fare, non solo nelle aziende, ma anche dalla didattica e dalla vita di tutti i giorni. E appunto per questo vorrei riassumere un po' il nostro pensiero, ok? Con un mantra che ormai mi appartiene, lo vediamo nella prossima slide, che è appunto partire dalla conoscenza, quindi dalla preparazione, dal sapere, ok? Quindi senza preparazione, senza conoscenza, senza lo studio delle cose non potremo mai governarle. Dobbiamo condividerle perché così, solo così, possiamo diffondere in maniera più veloce il nostro sapere, la contaminazione, quindi dobbiamo immergerci in questi argomenti per comprenderli di più, perché poi solo con la consapevolezza potremmo fare veramente il passo verso un futuro, un futuro dell'impresa, un futuro della società. C'è l'ultima slide che appunto riassume la fabbrica, la fabbrica del futuro. Cosa succederà dopo? Siamo qui a parlare di futuro, anche noi vogliamo dare la nostra idea e su questo, per entrare nell'argomento, passo la parola a Stefano che ci guiderà con una carrellata, diciamo, di informazioni, appunto di conoscenza su questo argomento. A te Stefano la parola. Ti ha detto tutto lui, quindi io forse potrei anche stare zitto e potremmo andare a prenderci un caffè. No, sono tutte cose molto giuste e molto puntuali. Io notoriamente sono un'anima critica, nel senso che sono un informatico con una storia ormai di qualche decennio e cerco sempre di leggere le cose con uno spirito critico, al di là delle enfasi che naturalmente gli osti mettono sui propri vini. Tra l'altro, essendo io di Negrara, mi fa piacere essere a Verona, seppur in modo così immateriale, anche perché ho parlato, ho avuto occasione di parlare in giro per tutto il mondo, però finora non sono mai venuto a parlare a Verona, quindi nemmo profeta in patria. Sarà per la prossima volta, perché anche stavolta, essendo virtualmente a Verona, la prossima volta speriamo di esserlo fisicamente. È stato detto della sostenibilità, e questo è un punto decisamente importante, perché il 5G o tutta la famiglia di standard intorno al 5G prevedono un minore quantità di energia utilizzata a parità di bit trasmessi. Certo, trasmetteremo molti più bit, quindi magari complessivamente la quantità di energia spesa, magari impiegata, potrà aumentare. Però ricordiamoci che ogni volta che spostiamo dei bit, soprattutto in ambito professionale, non in ambito domestico, residenziale, ogni volta che spostiamo dei bit evitiamo di spostare degli atomi, e spostare gli atomi costa molta più energia. Questa è una caratteristica che non viene raccontata, non viene declinata spesso, quella della sostenibilità, però effettivamente 5G ci promette una riduzione complessiva nei consumi energetici rispetto a quello che facciamo oggi. con le altre tecnologie wireless. Ci promette anche un aumento di banda e una diminuzione di latenza. Ora, la banda è il throughput in termine tecnico, cioè è la quantità di acqua che esce dal tubo per unità di tempo. La latenza è, una volta che una pallina entra all'inizio del tubo, quanto ci mette ad uscire dall'altra parte del tubo. Non tutti sono ingegneri, quindi giusto per... Quindi la latenza è il tempo che ci mette... Una volta entrata l'informazione ad uscire dall'altra parte. La latenza dei satelliti è estremamente alta. La latenza dei collegamenti wireless tende ad essere di un certo livello. Quello che è successo con l'evoluzione nel tempo degli standard della telefonia è che la distanza tra utente e antenna, in stazione radiobase, si è ridotta nel tempo. Si è ridotta aumentando contemporaneamente la portata e riducendo la latenza. Quindi sono delle cose... È un'evoluzione normale, diciamo, della rete. Cioè la rete è sempre data così. Con il 2G si poteva arrivare ad avere velocità throughput di circa 100 kilobit, quindi 0,1 megabit di 100 kilobit, con una latenza dell'ordine dei 300 millisecondi, cioè un terzo di secondo fino a un secondo. La distanza erano decine di chilometri, anche a decine di chilometri tra un cellulare, tra un dispositivo mobile e l'antenna a cui si collegava, anche una decina di chilometri. Il 5G, al lato estremo dello spettro, ci dà una velocità media promessa di oltre 50 megabit, 50 megabit e oltre, quindi 500 volte di più rispetto all'inizio della telefonia mobile, e soprattutto una latenza che è promessa essere di un millisecondo. Ecco, quando sentite dire però che la latenza è di un millisecondo, quello è un dato limite in condizioni sperimentali in laboratorio. Poi la verità è che in campo la latenza sarà diversa, sarà dell'ordine dei 15-20 millisecondi. Ma questa latenza non è la latenza che ci mette la mia comunicazione a uscire dal mio dispositivo ed arrivare fino alla destinazione dall'altra parte sul server. È il segmento della rete, della rete mobile. Quindi è solo quel pezzettino lì. Poi tutto il resto c'è sempre. Se io ad esempio vado, comunico, da Vicenza a San Paolo in Brasile, solamente la comunicazione via cavo ci mette oltre 100 millisecondi. Quindi in realtà quello che succede è che si passerà da 150 millisecondi delle tecnologie attuali fino a circa 120 millisecondi. Cioè ci sarà un guadagno, però il guadagno non sarà così eclatante. Ecco, non sarà così eclatante. Diciamo che in una comunicazione internazionale andiamo a guadagnare grosso modo un 20-30% del tempo nella comunicazione, nella latenza, ma il 70% ancora lì fisso. Questo lo dico perché spesso ci viene raccontato che le applicazioni saranno estremamente più veloci. Uno dei casi d'uso normali che viene raccontato sempre è quello dell'automobile che si guida da sé. L'automobile che si guida da sé, si guida da sé benissimo, ammesso poi tutti i temi legati all'uso di intelligenza artificiale, si guida da sé benissimo anche con una comunicazione locale, con una comunicazione fatta tra macchine dirette, senza passare da un centro rete. Anzi, si guida meglio così, tant'è che, e poi si guida già con le reti attuali, come dimostrano tutte le auto che ci sono in giro. Quindi non ci sarà questa grande evoluzione. Gli operatori telefonici, più o meno tutti, stanno pensando al cosiddetto edge computing, e qui lo dico un po' per dimostificare questa cosa. L'edge computing è l'idea che io prendo il calcolo che sta lontano e lo porto vicino all'estremità della rete. Allora, lì ci dobbiamo chiedere che tipo di applicazioni richiedono di passare da 150 millisecondi a 120. Cioè quel guadagno di 30 millisecondi. Per che cosa è veramente importante? Io ho dei dubbi che noi vedremo applicazioni reali per queste cose. Cioè si pensa ai giochi tipicamente perché hanno bisogno di bassa latenza, perché una volta che io ho un visore e giro la testa, se la schermata mi arriva dopo, mi viene la cinettosi, mi viene da vomitare. Quindi i giochi sono un classico esempio, la realtà aumentata e via dicendo. Però tutte quelle applicazioni lì le faccio benissimo anche mettendo la realtà aumentata direttamente sui dispositivi degli utenti, che se li portano quindi in giro, senza avere dove magari via rete trasmetto pochi dati che non hanno bisogno di quella latenza così bassa. Quindi dal punto di vista che può interessare a noi, tutta questa... Scusate, io cerco di darvi degli elementi per aiutarvi a capire. Tutta questa discussione che viene fatta sulla realtà aumentata per la manutenzione, eccetera, io dubito fortemente che la vedremo in rete. Una cosa... In rete 5G, cioè ci saranno delle bellissime demo, ci saranno... Però poi un deployment su vasta scala sarà difficile. Una cosa invece molto... Poi ci sono tutte le altre applicazioni che vengono raccontate, no? Quella del chirurgo che opera al cuore una persona mentre aspetta il matrimonio della figlia, queste robe qui. Ecco, quelle le lasciamo nel folklore, diciamo. Però c'è un tema molto, molto importante in realtà che spesso non viene indirizzato abbastanza e che invece giustamente Filippo Miola prima ha fatto vedere, che è quello dell'industrial IoT. La prima e principale applicazione per il 5G sarà quella dell'internet delle cose in ambito industriale. E qui il vantaggio è decisamente notevole perché se pensate che con una rete 5G si riuscirà a collegare fino a un milione di dispositivi per chilometro quadrato. Oggi se noi andiamo dall'esperienza che tutti voi avrete fatto all'interno degli stabilimenti delle fabbriche, nel momento in cui comincio a mettere dentro degli oggetti radio ho un problema di densità, un problema di interferenze, cioè ho un sacco di problemi. Con il 5G avrò una possibilità di arrivare fino a collegare un milione di dispositivi per chilometro quadrato che vuol dire tanti dispositivi per ogni fabbrica che altrimenti con le reti tradizionali non riesco a gestire per questa densità e per questo tema di interferenze. Anche perché poi si usano delle frequenze con un insieme di spettro di ampiezza maggiore. Questo vuol dire per le fabbriche, per gli stabilimenti maggiore flessibilità nella realizzazione. Cioè chi ha dell'automazione robotizzata e via dicendo sa quant'è importante e rilevante il tema del layout della disposizione degli apparati all'interno della fabbrica che come sia decisamente rigida la possibilità di cambiamento è legata al cablaggio che viene fatto. I cavi per l'industria e l'IoT costano un sacco di soldi i cavi per i cablaggi industriali. Ecco questo darà una quantità di flessibilità che sarà veramente una trasformazione epocale nella modalità con cui possiamo andare a gestire i floor plan delle industrie. quindi questo è questa al di là di tutta la narrativa dal mio punto di vista sarà la vera killer application abilitante del 5G il fatto di supportare l'industria e l'IoT questo sarà sicuramente una cosa rilevante su questo però bisogna fare anche un altro piccolo bagno di realtà e il bagno di realtà è che quando arriverà veramente una installazione estesa soprattutto al di fuori dei centri densamente popolati quindi dove ci sono gli stabilimenti del 5G perché notoriamente le telecomunicazioni sono un business basato sulla densità cioè vado nei posti dove ho più gente dove ho più densità dove ho più clienti i distretti industriali non sono un posto dove ci sono tanti clienti però sono quelli che potrebbero beneficiare di più e il gioco vale la candela per l'operatore di andare a portare un 5G diciamo in piena regola in questi distretti industriali e forse no ecco allora che bisognerebbe e qui lo lancio un po' come provocazione pensare allora diamo per scontato che nel giro di pochi anni ci saranno degli edge computing ma fatti sulle macchine questo sì collegati alla rete prima della rete che collegati con 5G per dare flessibilità nella gestione del floor plan aziendale questo accadrà quindi non l'edge computing vicino all'interno della rete dell'operatore ma l'edge computing a casa del cliente collegato con 5G queste cose possono accadere il problema è che poi viene a mancare 5G la rete dietro perché arriverà tardi perché saremo indietro rispetto ad altri paesi perché non c'è un business case perché in Italia gli operatori mobili sono quelli che guadagnano meno tra quelli che guadagnano meno al mondo perché la telefonia mobile da noi costa pochissimo per un sacco di motivi ecco una cosa che avviene in Inghilterra sono state autorizzate da Ofcom l'uso di frequenze su base non interferenziale cioè cosa vuol dire? vuol dire che io posso l'Ofcom è l'equivalente dell'autorità delle comunicazioni funzioni in larga parte sovrapponibili con l'agicom italiana vuol dire che io all'interno di uno stabilimento posso usare tra virgolette il mio 5G andando a prenderlo a prestito da qualcuno che non ci fa la rete quindi costruirsi delle isole 5G potrebbe essere una soluzione che però ha un tema regolatorio da risolvere questo lo dico come idea visto questa iniziativa avviata da Confindustria Vicenza di esaminare questa possibilità di sollecitare un adeguamento regolamentare per consentire laddove non ci sia servizio da parte degli operatori di andare a costruirsi delle proprie isole 5G per beneficiare di questa flessibilità e di tutte le meraviglie in ambito industriale che il 5G può portare posso chiederti Stefano volevo chiedere però il 5G comunque io all'antenna ci devo arrivare perché io non sento non senti mi senti adesso io non sento adesso sento ok Stefano stavo dicendo che comunque io all'antenna in qualche maniera ci devo arrivare quindi l'antenna te la puoi mettere tu l'antenna te la potresti mettere tu come fanno indietro perfetto però per andare poi nella rete per andare in internet devo avere un tubo che mi porta fuori quindi e questo è un problema che stiamo vedendo nella nostra zona ma non solo nella nostra zona che siamo ancora molto indietro con la realizzazione della rete di banda ultralarga e quindi credo ci sia anche da spingere in questo senso va bene 5G va bene che arrivino tutte queste nuove tecnologie però abbiamo bisogno anche della base perché se no facciamo fatica poi a diffondere tutte queste tecnologie quindi volevo capire anche da te assolutamente sì però su questo diciamo c'è già un piano avviato che è quello del piano banda ultralarga finanziato dal governo con soldi della commissione e un po' cioè si tratterà di vedere come avverrà il roll out di spiegamento della rete soprattutto nelle aree a fallimento di mercato qui il tema è tutti noi sappiamo che Tim sta proponendo una fusione con Open Fiber che il governo vuole arrivare a fare una rete unica è indubbio che da quando Open Fiber ha cominciato a cablare grazie ai bandi che ha vinto c'è stato uno sviluppo della rete in fibra che prima era stato sempre molto a spizzichi e bocconi ad essere generosi è indubbio che questo ha aumentato tanto il rischio qui è che nelle discussioni e nelle more di una possibile eventuale integrazione tra Tim e Open Fiber autorizzata dall'antitrust italiana autorizzata dall'antitrust passino degli anni in cui l'infrastrutturazione si fermi questo potrebbe essere un rischio e questo è un rischio sul quale Confindustria dovrebbe farsi portavoce dire vabbè fate tutti lo che volete però portateci la banda cioè portateci la fibra cioè il 5G ti fa passare da 50.000 cioè la narrowband di IoT quella tradizionale in azienda ti fa 50.000 device per chilometro quadrato con 5G arrivi a un milione il vantaggio è colossale se poi dietro non c'hai come giustamente non c'hai il tubo per andare da nessuna parte è una sorta di economismo tecnologico non so come dire era proprio qui che volevo dire cioè va benissimo guardare in là guardare al futuro però noi come Confindustria Vicenza abbiamo già fatto delle iniziative continuiamo a farle le faremo perché abbiamo bisogno di spingere e di accelerare oggi si parla di futuro e credo che l'accelerazione faccia parte di questo gioco e con con sto Covid credo che proprio l'accelerazione sia uno delle keyword una delle keyword che 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 la percorsa perché qua sta tutto accelerando per arrivare prima quindi il digitale una grande corsa a infrastrutturarsi le aziende che devono riuscire a gestire tutto da remoto quindi c'è stata veramente anche una una consapevolezza in più rispetto a prima sull'importanza di tutte queste tecnologie però giustamente come dici tu cioè ok 5G farà tante belle cose speriamo che arrivi presto ok però dobbiamo avere anche il tubo che ci porta che ci porta in internet quindi non basta solo l'antenna ma abbiamo bisogno di tutta un'infrastruttura che poi ci porti nella rete ci porti a interconnettere come dicevo prima la parola la parola d'ordine è interconnessione di tutti gli oggetti che avremo a disposizione è assolutamente così ecco invece sul discorso che dicevi prima delle aziende che è questa nuova diciamo questa idea che potrebbero andare a gestire una frequenza autonoma o comunque una isola 5G magari su questo argomento potremmo anche poi andarlo ad approfondire perché potrebbe diventare un driver un acceleratore per riuscire ad applicare certe logiche certe soluzioni appunto sulla diciamo proliferazione di tutti questi oggetti che ci sono in azienda su questo c'è da dire che c'è c'è una complessità oggettiva in Italia rispetto al Regno Unito ed è la la densità la distribuzione della popolazione cioè in Italia solamente il 12% della popolazione abita in centri urbani di una certa dimensione e tutto il resto cioè chiunque sia stato in Veneto sa che tra Vicenza e Belluno è tutto un continuo di case capannoni quindi questa non è la situazione che c'è in Inghilterra quindi magari bisognerà andare a vedere la possibilità sulla base delle specificità però un discorso del genere è cominciare a parlarne con la fondazione Bordoni lì c'è il presidente Antonio Sassano che è un grandissimo esperto di tecnologia radio è un discorso che comunque penso possa valer la pena di provare a esaminare ripeto in attesa che gli operatori facciano il loro compito ok quindi abbiamo abbiamo capito l'importanza della connessione e come il 5G potrebbe essere un driver determinante per diffonderla e allargare le possibilità per aziende ma anche per i cittadini io volevo chiedere a te perché un altro elemento che sta arrivando all'interno delle aziende è il mondo dell'intelligenza artificiale quindi tutte queste nuove logiche che ci aiuteranno a governare a diciamo prendere delle decisioni aiutate da sistemi che elaborano quantità di dati infinite diciamo poi appunto a sua volta governate da algoritmi e so che tu hai fatto parte del gruppo di esperti dell'intelligenza artificiale europea secondo te come dovremmo diciamo interpretare questa nuova possibilità che abbiamo e che abbiamo e che avremo tra le mani a breve allora questo forse se ne parla meno del 5G però sicuramente è più è più rilevante io ho fatto parte del gruppo di esperti dell'intelligenza artificiale della commissione europea e abbiamo prodotto una serie di documenti di 5 con anche uno di raccomandazione di policy che la commissione poi della quale la commissione poi ha una parte gli ha fatti propri una parte rilevante e tra qualche settimana vi do un annuncio prima tra qualche settimana verrà rilasciato un paper che spiega che guarda all'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito del commercio internazionale io sono anche presidente dell'advisory group sulle tecnologie avanzate per quel pezzo delle Nazioni Unite che si occupa di favorire l'implementazione degli accordi del WTO sostanzialmente cioè commercio internazionale e business eccetera e faremo un documento specifico su queste cose qua che magari gli interessati mi scrivono e ve lo faccio avere questo è un tema decisamente molto 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 rilevante io dico uno slogan che l'intelligenza artificiale è un lubrificante dei processi operativi delle aziende perché è perché il lubrificante entra lì dove ci sono le cose difficili faticose eccetera e le fa girare meglio bisogna capire che al di là anche qui al di là degli slogan eccetera l'intelligenza artificiale è un modo diverso di fare software mentre il modo tradizionale è quello algoritmico con passo passo viene spiegata una procedura con l'intelligenza artificiale con le tecniche attuali machine learning si impara dagli esempi quindi si impara dai dati per capirci dico sempre che ci sono due modi per fare le uova al tegamino uno è seguire la ricetta e l'altro è guardare come le fa la mamma e imparare da lei quindi il modo tradizionale era il modo seguire una ricetta quello è il software tradizionale il modo portato dal machine learning è guardare come fa la mamma e imparare da lei questo cosa vuol dire vuol dire che devo prendere i dati prendo i dati li do a un computer il computer da quei dati all'interno di quei dati trova delle correlazioni correlazioni statistiche ne tira fuori un modello statistico e poi questo modello viene usato successivamente per fare delle predizioni allora faccio un esempio per chiarire rosso di sera bel tempo si spera rosso di sera bel tempo si spera è l'osservazione della realtà e l'individuazione di una correlazione ieri c'era rosso oggi c'è bel tempo ieri c'era rosso oggi c'è bel tempo ieri non c'era rosso oggi c'è brutto tempo osservo la realtà tiro fuori la correlazione produco un modello il proverbio rosso di sera bel tempo si spera e uso questo modello per fare nuove predizioni stasera c'è rosso che tempo ci sarà domani vado al lago con la morosa stasera c'è brutto tempo domani vado al cinema o cosa faccio stasera non c'è rosso domani cosa faccio ecco questa capacità è trovare correlazioni all'interno dei dati perché adesso perché adesso abbiamo una capacità di calcolo una capacità di archiviazione dei dati una capacità di raccolta dei dati grazie alla rete che prima non avevamo quindi prima era tutta teoria adesso è diventata pratica in molto in concretezza all'interno delle aziende io posso trovare le correlazioni allora vabbè rosso di sera bel tempo si spera piuttosto che le caratteristiche di una cellula col fatto che sia tumorale piuttosto che una sequenza di un insieme di ordinativi e scopro che c'è qualche anomalia piuttosto che gli ambiti che conosciamo benissimo anomaly detection per capire la difettosità e via dicendo però qui il punto è che oggi abbiamo la possibilità di raccogliere una quantità di dati ed analizzarla che prima non avevamo quindi in ogni passaggio all'interno dei processi aziendali in tutti i passaggi noi possiamo andare a raccogliere dati e dare quei dati e mettere via quei dati questa è la prima cosa da fare per cosa? non lo so ancora ma se domani mi servono ce li ho perché la cosa peggiore che può accaderci è che oggi un giorno ci accorgiamo e diciamo ah ho bisogno dei dati per fare questo processo perché i miei concorrenti lo fanno e guadagnano il 5% di riduzione dei tempi e però io non ho messo via i dati e quindi non posso farlo sulla mia realtà quindi mettere via i dati è cominciare a crearsi quella che viene chiamata una data strategy è crearsi quel bagaglio che poi ci consentirà di costruire modelli che ci aiutano a lavorare meglio lavorare meglio vuol dire scoprire anomalie scoprire colli di bottiglia scoprire pezzi di organizzazione che non funzionano bene capire come andare ad intervenire su pezzi di organizzazione anche nel rapporto con clienti e fornitori è ben inteso quindi non solo limitatamente ai confini ai perimetri aziendali in senso stretto bisogna pensare anche in un'ottica un po' più allargata perché tutto di tutti i passaggi dobbiamo acquisire e mettere via i dati perché ci aiuta come un lubrificante a mettere l'olio in tutti i passaggi ad avvertirci quando c'è qualcosa che non va e a far funzionare le cose meglio abbassare i tempi di apprendimento aumentare la qualità aumentare l'efficienza tutte le cose che diceva prima Filippo ok allora su questo io volevo chiedere perché tu hai parlato appunto di l'intelligenza artificiale per alimentarla a bisogno di grandi quantità di dati e anche di una diciamo potenza e capacità elaborativa che non è che non è indifferente secondo te il 5G potrebbe aiutare sto pensando a una logica di visual AI e quindi di videocamera intelligente che deve in una città andare a interpretare una scena o qualcosa che succede e immediatamente analizzarle appunto applicando logiche di intelligenza artificiale riconoscere quello che è successo e magari dare un allarme cioè qui o c'ho vicino ok un bel tubo che mi permette di portare tutte queste immagini elaborarle velocemente e trasmettere poi un risultato oppure potrebbe in questo caso un'interfaccia 5G farmi collegare il device in maniera veloce e così portarmi diciamo alla soluzione a poter realizzare ed applicare delle logiche che in altra maniera non potrei fare qui ci sono tre cose da dire la prima che non sempre che mentre con il metodo algoritmico tradizionale 2 più 2 fa sempre 4 con un metodo di programmazione statistica legacy intelligenza artificiale 2 più 2 non fa sempre 4 rosso di sera bel tempo si spera poi ogni tanto arriva la perturbazione atlantica che sballa il modello quindi quando noi usiamo un sistema di intelligenza artificiale questo vale anche in azienda dobbiamo sapere che per costruzione il sistema di intelligenza artificiale sbaglia ci becca tanto ma ogni tanto sbaglia quindi bisogna che sia sorvegliato quello che noi tecnici chiamiamo human in the loop o human on the loop allo stesso modo se io metto una roba del genere per andare a vedere le cose sulle telecamere lui mi evidenzia il sistema mi evidenzia le cose che non sono abituali che non sono regolari e questo caso magari mi segnala degli allarmi però questa roba mi può portare a segnalarmi che ne so che il carnevale è un evento stranissimo piuttosto che qualcuno che si laurea e fa la festa è un evento anomalo e viene segnalato come anomalia ci vuole qualcuno che poi sia in grado di capire che da quella cosa non si può prendere una decisione in automatico ma ci deve essere un uomo è una roba che aiuta enormemente le potenzialità dell'uomo in determinati ambiti lo può sostituire molto ristretti ma non in senso generale secondo punto e il terzo punto è che io una volta costruito il modello posso mettere il modello sul dispositivo quindi indubbiamente sì è più facile fare le telecamere connesse eccetera per l'ispezione via dicendo però ci sono anche delle telecamere con intelligenza a bordo che ho già portato a bordo il modello statistico e che quindi mi consente di fare il rilevamento e mi dà solo l'allarme e non mi dà tutto il flusso video perché mi dice semplicemente c'è già stato c'è già stato quest'allarme una cosa invece che può essere molto di uso perché effettivamente costruire i modelli è un'attività estremamente dispendiosa è il tema del cloud noi oggi usiamo delle tecnologie cloud che sono sostanzialmente fornite in larghissima misura da Amazon un po' meno da Microsoft Azure ancora meno da Google però sono sempre lì queste cose sono delle piattaforme che una volta che noi ci mettiamo dentro le nostre cose che le nostre persone sanno lavorare con quelle tecnologie lì è molto difficile spostarsi molto difficile e questo limita la nostra possibilità la nostra libertà di consumatori di andare da una parte all'altra e quindi nel momento del bisogno di avere il deal migliore l'offerta migliore perché siamo bloccati all'interno di un fornitore sto parlando quindi di Gaia X volevo chiedere cosa ne pensavi di questo progetto europeo che appunto è Gaia X dove un po' di aziende hanno aderito anche qualcuna di italiana proprio per arrivare a creare quel cloud europeo che possa in qualche maniera cercare di contrastare il monopolio come dicevi tu perché mi pare che sia 47,8 la quota di mercato di Amazon solo al 15% Azure e tutti gli altri vanno più giù quindi c'è veramente un monopolio di Amazon che per molti Amazon vuol dire e-commerce ma in realtà Amazon ha fatto e sta facendo molte altre cose ho visto un servizio da poco come hanno messo in piedi un'azienda di robotica in casa perché tutti i carrelli AGV che corrono all'interno delle fabbri sono tutti costruiti e progettati da loro e mi pare di aver visto che siamo ormai un robot una persona all'interno di questi stabilimenti comunque a parte questa parentesi volevo capire da te in quei numeri che citi ci sono anche i cloud che si fanno se stessi le aziende se vado a vedere la quota di cloud erogato come servizio i numeri sono ancora più impressionanti sono molto molto maggiori allora il problema qui è il lock in cioè il fatto che io entro da un fornitore e poi non riesco più a schiodarmi nel momento del bisogno sono legato a quel fornitore nessuno di noi vuole trovarsi nella condizione di essere dipendente da un solo fornitore e non poter scegliere di cambiare tutti vogliamo avere la libertà di poter decidere se no che imprenditori saremmo allora Gaia X non è che vuole fare un cloud europeo questo forse un po' è una banalizzazione diciamo non è del tutto preciso quello che vuole fare Gaia X è consentire ai clienti del cloud di spostarsi da un fornitore all'altro cioè è chiaro che Amazon non ha un vantaggio nell'aderire perché sarebbe solo un donatore di clienti mentre non so Deutsche Telekom che ha aderito sarebbe un acquisitore di clienti perché oggi tutti i clienti stanno su Amazon quindi è aperto a tutti concettualmente ed è la via europea non so ci ricordiamo quando avevamo i cellulari all'inizio quando cambiavi operatore dovevi cambiare il numero di telefono e non cambiavi operatore perché se no poi dovevi telefonare a tutti e dire guarda che mio numero nuovo è questo quando è arrivato il GSM quando siamo passati dall'ETAX al GSM ci ricordiamo il casino la portabilità del numero vuol dire il fatto di poter prendere i propri dati le proprie informazioni e spostarlo da un operatore all'altro è la cosa che ha fatto partire il mercato che ha fatto diminuire i prezzi e aumentare la qualità questo è quello che si vuole fare con Gaia X Gaia X è un sistema interoperante federato di fornitori di servizio cloud in modo tale che uno possa prendersi la propria istanza e spostarla da un fornitore all'altro non mi va più bene Deutsche Telecom cambio e lo metto su Orange o piuttosto che su Engineering che ne so in Italia questo è Gaia X Gaia X è un progetto che nasce dal governo tedesco come Industria 4.0 se voi andate a leggervi l'accordo di programma della grosse coalizione del 2012 mi sembra lì c'era scritto che avrebbero lanciato il paradigma dell'Industria 4.0 che l'avrebbero diffuso presso i partner europei e viva Dio meno male che l'hanno fatto se no avremmo ceduto un altro pezzo di sovranità tecnologica adesso all'interno del programma della coalizione uno dei punti è questo c'è un'agenzia che è poco nota in Germania che è molto nota ARPA negli Stati Uniti in Germania c'è un'agenzia anche perché fondata da poco che si chiama Sprind e Gaia X è uno dei progetti di Sprind finanziati da Sprind cioè sono i tedeschi che stanno mettendo lì i soldi per fare in modo che poi noi possiamo spostare le nostre cose il nostro cloud al miglior offerente è decisamente la cosa giusta da fare e io sono convinto che così come Industria 4.0 ha avuto successo Gaia X avrà successo anche perché si orienterà la spesa pubblica in modo tale da creare l'offerta perché il problema di queste cose con questi mercati a due versanti è che da una parte c'è il cliente dall'altra parte c'è il fornitore il fornitore non parte se non ci sono clienti i clienti non partono se non ci sono i fornitori faccio la tecnologia Gaia X poi dico governi comprate Gaia X in questo modo i fornitori imparano a usare Gaia X a offrire Gaia X a quel punto anche i sviluppatori ingegneri eccetera e a quel punto anche le aziende possono beneficiare di questo quindi non ci deve scandalizzare che venga usata la spesa pubblica per fare innovazione industriale negli Stati Uniti si fa si chiama ARPA si chiama Pentagono e da noi si chiama in questo caso in Germania Sprind bene molto bene sarà interessante vedere scusa abbiamo qualche esigenza di tempo anche chiedevo se siete in conclusione sì diciamo che l'ultima domanda era legata un po' a tutti i finanziamenti europei che sta mettendo la bondeleia a legarti proprio al mondo del digitale e quindi volevo porre anche l'attenzione a questo e fare un augurio sperare che poi l'Italia riesca a metterli a terra e a metterli a terra nei tempi perché oggi veramente il fattore tempo fa la differenza abbiamo dei problemi 5G ha un problema anche di impianti che non è che da un giorno all'altro tu riesci a realizzarli però ci sono delle cose che magari potrebbero essere realizzate in maniera molto più veloce quindi era confrontarmi con Stefano anche su questo argomento velocemente e poi potremmo anche chiudere ma allora velocissima risposta in due parole io sono uno io ho scritto anche un articolo su questo sul foglio qualche mese settimana fa io auspicherei la creazione di un program management office all'interno della presidenza del consiglio perché se tu prendi e spargi le competenze su mille luoghi poi non vai più a casa allora il fatto di avere un luogo che gestisca in raccordo con tutti i ministeri ma che sia l'ufficio di programma di come vengono usati i fondi della Next Generation EU sarebbe fondamentale perché poi facilita anche la reportistica nei confronti dell'Europa perché chi ci presta i soldi poi vuole anche sapere come vengono spesi ma non solo e ha fatto anche di reputazione del paese e far vedere che quello che normalmente facciamo nelle aziende quando facciamo un piano così ampio abbiamo un program management office un PMO che gestisce il processo una roba di questo genere farla per lo Stato sarebbe doverosa secondo me bene va bene allora possiamo chiudere con magari con una frase che tornando nel contenitore che siamo credo che come imprenditori come aziende immaginiamo che non ci possa essere futuro senza imprese ma allo stesso tempo non immaginiamo un futuro per le imprese senza le persone quindi vogliamo rivadire questo concetto intelligenza artificiale automazione robotica ma comunque le persone saranno sempre nel centro del governo di tutte le cose formazione bene su queste parole chiudiamo questa sessione e abbiamo capito che il il futuro del 5G in realtà è in corso ma ha ancora molto tempo per svilupparsi abbiamo imparato che ci sono molte correlazioni fra appunto questa tecnologia ma tecnologie esistenti che però sono fondamentali per abilitarla parliamo della banda larga parliamo dell'intelligenza artificiale abbiamo capito che una delle prime applicazioni la più veloce che potremmo vedere sarà proprio nel mondo dell'impresa e quindi diciamo è fondamentale continuare a approfondire questi temi perché chiaramente c'è un tema legato anche al governo delle cose e quindi a come le cose si possono implementare in termini di infrastruttura sarà interessante credo fra un anno rivedersi qui rivedersi con Stefano Quintarelli in presenza a Verona è già invitato e con i nostri partner di Confidus a Vicenza Filippo Miola per tornare ad approfondire e sarà interessante vedere a quel punto dove siamo effettivamente quindi ringrazio entrambi ringrazio tutti e vi rimando alla prossima sessione del Festival del Futuro che riguarda un tema che peraltro è stato toccato proprio in questo panel che è quello della sostenibilità nella prossima sessione con Enrico Sassun e i suoi ospiti approfondiremo il tema della sostenibilità e soprattutto del cambiamento climatico quindi vi rimando a tra poco con questo nuovo panel che si aggiunge al programma del Festival del Futuro grazie a tra poco grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.